Raga inizio questo video un po' atturbato comunque bella raga benvenuti in questo avviso video qua su Brawl Stars Sono un po' atturbato perchè il mio socio Lorenzo, il ragazzo che gestisce questo profilo assieme a me E mi raccomando passate dal suo canale che lo trovate in descrizione Mentre dormivo mi è arrivato un suo messaggio Lui mi ha detto che ha fatto una partita in sopravvivenza uccidendo tutti Cioè su 10 persone in pratica 9 li ha uccise lui Quindi aspetta qua dobbiamo fare il video fammi vedere che hai fatto Infatti sono rimasto abbastanza perplesso non mi è mai capitato Mi è capitato di uccidere magari 5 persone 6 ma addirittura tutti a sti livelli poi è una roba impressionante In questa lobby tutti quanti avevano giustamente più di 600 coppe Per cui raga io andiamo a vedere che roba Anzi vi dico di più no aspetta prima vi devo dire questa cosa Così mi è venuto proprio in mente adesso vorrei sfruttare questo video per lanciare una nuova serie Ma non so ancora cosa Dove reagirò farò una top Non lo so se voi avete delle clip di vostre giocate o vostri fail qualunque cosa Vi lascio una mail qua in sovraimpressione Devo ancora crearla comunque la trovate scritta appunto in sovraimpressione Da quando raga mandatemi le vostre clip Che non so voglio farci qualcosa ma non so ancora cosa Per cui detto questo registro mischi e replay Bah vediamo che ci ha combinato il nostro Lorenzone Non ne ho idea Tra l'altro in questa mappa che mamma mia mi fa di uno schifo Stamattina i live se c'eravate raga Cioè mi lamentavo e basta Su questa mappa veramente non Così Priagill subito da quella spensierato Su questa mappa proprio non mi sono trovato per niente Zero Però soprattutto in singolo Già in duo ci può stare in singolo proprio male male Qua fortunatamente riuscendo a fare quella shelly subito È partito a bomba con queste casse E quindi sta già qua a 6 punticini Ora Aspetta giustamente il momento giusto per uscire E si fa questo shelly Madonna baby raga Fa dei danni Se te la trovi davanti ti devasta Cioè neanche ha sparato shelly praticamente Devastante proprio Raga in questo momento il nostro Lorenzone ha deciso di camperare Però sa che lì c'è un colt Prima si è visto lo sparo Quindi lui sa tutto Lo buscia E lo devasta Oh così Andato Fatto Preso Nostro Ok Intanto sotto ce n'era un altro Ma mi sa che non l'ha Ah beh nel cespuglio Chiaro che non l'ha visto Comunque per ora raga Effettivamente se li hai fatti tutti lui Vediamo che succede Guarda tutti che camperano È per quello che fa schifo Tutti che camperano Però attenzione che Eh lui sapeva chiaramente che lì ci stava qualcuno camperato E se lo fa Anche questo bull è andato con una noschalance incredibile Guarda tutti fermi raga Tutti fermi che timmano Mamma mia che schivezza Comunque anche Patrick Devastare Non lo sfiorano praticamente Anche se gli provano a far del male Non possono far nulla Li devasta Cioè è diventato pifin da subito Qua tanto le persone pensano solo a timmare Attenzione Vediamo adesso Beh anche qua sicuramente Riuscirà a farselo senza problemi È decisamente più forte Però Siamo nelle fasi finali Tomo Shelly proprio devastata Fight finale Arriva il nostro Bibby Che si ruba la kill Uno contro uno Ha ucciso veramente tutti lui raga Tanta roba Mamma mia Devastare Devastare Pazzesco Gran bella partita raga Gran bella partita GG per Lorenzo Rosa era l'unica che poteva farcela Ma niente Non è Non è bastato Quindi GG per Lorenzo Mi raccomando raga Passate dal suo canale L'ho trovato in descrizione Raga Mi è venuta voglia di fare una partita adesso E dai Con Bibby Allora Qua potremmo andare Oh attenzione Adottiamo la strategia Di Di Ma è però no Se già c'è Leon lì No 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 C'è Star Ci rinuncio proprio fin da subito Se mi faccio sta cassa E via Oh È scemo raga Ma che sce Ma che sce Ma perché ha fatto sta minchia Grande Leon Ma ha fatto una mossa senza senso Non l'ho capito Cioè per rubarmi il mio punticino È venuto a suicidarsi Va bene Grande Leon Grazie mille Oh camperino No non è vero Ma però c'è ancora una cassetta Vai arriviamo a tre E non è male va Abbiamo anche la special Ti ho visto Chi era un bull Credo fosse un bull Per ora ce la teniamo buona Infatti era un bull Ce la teniamo buona la special Siamo in otto Devo beccare i camperini raga Qua non c'è nessuno Qua neanche Qua neanche Eh la padova Sono tutti negli angoli raga Sest Eh vabbè Qua c'è qualcuno camperato Sì Bella per Uh che rischio Bella per Leon 999 tra l'altro Lol Frate 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 Keep calm Keep calm Qua non c'è nessuno Vero no Qua azzardiamo un attimo Ok Almeno ho preso un po' di Di hit per la special Potremmo provare Basta Basta che se no se la prende lui Ci muoio io Quindi per ora Siamo qua Beh comunque in positivo Ci siamo E va bene L'importante è quello Sarebbe carino arrivare un po' più sopra Nel quarto posto Ma Qualora Eh la madonna No 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 Uh grande Shelly Vai Shelly No non venire qua Vai Spike Fagli vedere chi comanda Anzi Tomo Beccati sta bottazza Va Beccatevi sta bottazza Purtroppo qua Devo Ah Sì 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 Così Andate avanti a presa nostra Un bel primo posto Dai va Ottimo direi Riga Io direi che per questo video Possa effettivamente essere tutto Direi quando Mandatemi le vostre clip A questa mail magica Che ancora non so quale sarà Passate dal canale di Lorenzo Che ci ha fatto una partita Proprio Top Noi ragazzi Vi chiamo a un prossimo video E Bellissima